Capire a fondo la diffusione e l'impatto del virus tra la popolazione di due aree geografiche molto diverse, la provincia di Varese e il Molise. E' questo l'obiettivo di un progetto finanziato dalla regione Lombardia, dalla Fondazione Cariplo e dalla Fondazione Veronesi. Lo studio sarà portato avanti dall'Università dell'Insubria, dalla AST Sette Laghi di Varese e dal Neuromed di Pozzilli. Una ricerca importante perché solo attraverso un'attenta conoscenza del fenomeno sarà possibile intervenire o fare prevenzione con una certa efficacia. Sappiamo bene che il numero di casi e la severità dei casi di Covid è stata molto diversa in queste due località geografiche. Quello che vorremmo capire adesso è se anche l'infezione da virus che si è manifestata in maniera sintomatica è stata diversa e ha colpito dei soggetti diversi. Il progetto procederà in due direzioni. La prima parte prevede un'indagine sierologica su un campione di circa 3.000 cittadini appartenenti alle due aree. La seconda invece concentrerà l'attenzione sugli operatori sanitari. Recluteremo un campione di popolazione generale al nord e al sud e cercheremo di capire qual è la prevalenza delle infezioni attraverso indagini sierologiche. Studieremo poi tutta una serie di fattori di rischio presenti in queste popolazioni per capire se la percentuale di popolazione che si è infettata rispetto alla percentuale di popolazione che non si è infettata ha dalle differenze. Sono più giovani, sono più vecchi, sono più donne o sono più uomini, sono persone di uno stato sociale più alto, di uno stato sociale meno alto, hanno più fattori di rischio cardiovascolari o meno fattori di rischio cardiovascolari e così via. La seconda parte dello studio invece sarà dedicata agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri che hanno dedicato il loro lavoro e il loro tempo ai pazienti con questa malattia e quindi sono stati sottoposti ad uno stress notevole perché hanno dovuto lavorare in delle condizioni di particolare emergenza ma anche di particolare pericolosità per il contagio. E questo studio va ad integrare i risultati di altri studi che abbiamo iniziato che valutano non soltanto l'impatto della malattia ma anche tutto ciò che la malattia ha provocato in persone che non si sono ammalate come per esempio la quarantena, il dover essere stati isolati a casa per tanto tempo sull'altro tipo di malattie.